È l'unica occasione. Ci serve Kong per fermare ciò che è in arrivo. E questa bambina è l'unica con cui vuole comunicare. So che avevano un legame. Credo che, in qualche modo, Kong abbia deciso di proteggerla. È Godzilla. Questi sono tempi pericolosi. C'è qualcosa che lo provoca che non vediamo qui. I miti esistono. C'è stata una guerra. E loro sono gli ultimi ribasti. Chi si piega a chi? Kong non si piega a nessuno. Godzilla vs Kong in esclusiva digitale.